Colleghi, inizia l'On. Caputo. Grazie, Presidente. L'adesione dell'Unione Europea al CITES è di fondamentale importanza per assicurare la salvaguardia delle biodiversità. Anche se l'Unione Europea non ha aderito da subito alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, si è sempre impegnata, fin dal 1 gennaio 1984, ad applicarla pienamente. L'adesione dell'Unione Europea alla CITES rappresenta quindi l'evoluzione e la maturazione di un processo naturale e logico, che finalmente consentirà all'Unione Europea di essere adeguatamente rappresentata e di indirizzare i lavori della Convenzione e da svolgere in maniera efficace il proprio ruolo. Aderendo al CITES, l'Unione rafforzerà ulteriormente la sua leadership in materia ambientale, di tutela animale e di politica ambientale, garantendo che il commercio internazionale di esemplari minacciati di estinzione non ne mini la sopravvivenza a livello comunitario e internazionale. Ritengo che l'adesione, che consentirebbe alla Commissione di svolgere un ruolo essenziale nei negoziati durante le conferenze delle parti, aumenterebbe la coerenza e l'unità dell'azione dell'Unione Europea su questioni relative al CITES e porterebbe ad un maggiore allineamento delle posizioni degli Stati membri. Sono quindi convinto che l'adesione debba essere considerata come un passo logico e necessario affinché l'OE sia pienamente in grado di perseguire gli obiettivi che si è prefissato nel quadro della propria politica ambientale. Onorevole Caputo, solo un minuto per il CACTIA e Onorevole Jakotic Tragično è ono što se dešava sa slonovima u Africi Grazie, Presidente. Quello che sta succedendo agli elefanti africani è...